Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 169esima puntata del podcast di Marcos Box. Anche questa è una puntata video, come potete vedere dal mio bel faccione se mi seguite su YouTube. Questa sarà una puntata ricca di informazioni, ricca di notizie che riguardano Ubuntu, che riguardano anche PopOS e il suo Cosmic Day, che stanno sviluppando gli sviluppatori di System76 per PopOS, che finalmente si lascia intravedere e ci dà anche un'informazione sul periodo temporale in cui verrà pubblicato. Non abbiamo una data precisa, però sappiamo che sta arrivando. Ci sono poi notizie riguardanti Fedora, ci sono guide, andiamo con ordine, andiamo a vedere quali sono tutte queste notizie e andiamo a commentarle insieme. E apriamo questa puntata con una notizia riguardante Fedora. La community di Fedora ha annunciato la creazione di una nuova famiglia di spin di Fedora Linux chiamata Fedora Atomic Desktop. Che cos'è praticamente? È una famiglia di spin, o meglio un nome collettivo, come lo volete chiamare voi, che va a reagruppare tutte quante quelle distribuzioni atomiche che fanno parte delle spin ufficiali di Fedora. Quindi Fedora Silver Blue, Fedora Kinoit, che sarebbe come se fosse Fedora Silver Blue ma con KDE, Fedora Sway Atomic e Fedora Bagi Atomic. Perché queste sono le spin atomiche attualmente presenti, attualmente attive, nel gambito della famiglia di Fedora, delle spin ufficiali di Fedora. A breve fratto vedremo anche una nuova spin atomica di Fedora con XFSE chiamata Bauxite. Perché hanno deciso di introdurre questo nuovo marchio? Beh, hanno deciso di introdurre questo nuovo marchio perché questo servirà a semplificare il modo in cui si parla delle spin atomiche di RPM o S3 e anche il modo in cui nel futuro verranno nominate le spin atomiche perché hanno anche deciso che in futuro le nuove spin atomiche assumeranno un nome prestabilito. Avremo Fedora, il nome del desktop e poi la parola Atomic. Quindi, che ne so, Fedora Cinnamon Atomic, Fedora Cosmic Day Atomic. Quindi in futuro avremo, diciamo, un nome più semplice. Quindi andremo subito a Coppa Sicuro, sapremo subito se si trattano di una spin atomica. E sono curioso di vedere se poi andranno anche a rinominare retroattivamente le spin, quelle storiche, tipo Silver Blue, Kinoit e quant'altro. E che dire, il futuro di Fedora è sempre più atomico. E adesso passiamo alle notizie riguardanti Ubuntu. Ci sono due notizie questa settimana riguardanti Ubuntu. La prima è una brutta notizia. E' una brutta notizia per tutti quanti quegli Ubuntu... Anzi, sono tutti e due brutta notizie. Però la prima è una brutta notizia che coinvolge, diciamo così, la maggior parte di voi. Tutti quegli utenti che non vedevano l'ora di mettere le mani su Ubuntu Core Desktop, l'edizione di Ubuntu Desktop completamente basata su Snap, beh, dovranno aspettare un pochino. Perché stando a quanto dichiarato da Team Homes Mitra di Canonical, Ubuntu Core Desktop non sarà rilasciata insieme a Ubuntu 24.04 LTS, quindi era ad aprile o fra qualche mese, come inizialmente era, avevamo tutti quanti sperato, perché era stato così, c'era stata data questa informazione, anche da parte di voi c'era stata trapelata. Il rilascio è stato rimandato a data da destinarsi, almeno fino a quando non verranno risolti tutti quei problemi che sono emersi nello sviluppo di Ubuntu Core Desktop. Gli sviluppatori vogliono offrire un'esperienza utente eccellente, questo, quindi richiederà tempo. Consenno di poi, pensandoci bene, io già lo sospettavo di questa cosa, perché un rilascio assieme a una LTS, quindi con l'impegno a mantenere anche subito come LTS, era chiedere troppo, era una cosa un po' così. Secondo me gli sviluppatori l'hanno buttata così, giusto perché era un po' di hype per far parlare di questa nuova distribuzione, per vedere, per testare un po' anche gli animi della community, ma sapevano benissimo che non sarebbe stata pronta per una edizione LTS, quindi probabilmente, se tutto andrà bene, la vedremo verso la fine dell'anno con la versione semestrale. Poi, vabbè, sapete, ci aspetta adesso un periodo di versioni semestrali di Ubuntu con supporto ridotto, ottimo per stare a sperimentare questo tipo di distribuzione, quindi, vabbè, io ero tra quelli scettici, non ci credevo nell'imminente arrivo. Voi invece che ci credevate nell'arrivo con la 24.04? Fatemelo sapere nei commenti. L'altra brutta non poi notizia riguardante Ubuntu è quello di un exploit di sicurezza che è stato scoperto dai ricercatori di Aquanauticus Security Research Team che hanno identificato un problema di sicurezza che deriva dalla interazione di un pacchetto presente nei repository di Ubuntu, il pacchetto che si chiama Command Not Found, e i repository di pacchetti Snap. Lo strumento Command Not Found può essere inavvertitamente manipolato dagli aggressori attraverso i repository Snap portando a raccomandazioni di software ingannevole di pacchetti dannosi. Andatevi poi a leggere tutte le informazioni riguardanti a questo exploit. Vi ho pubblicato soltanto un sunto sulle pagine del blog però vi ho rimandato all'articolo completo sul blog ufficiale di questi ricercatori di sicurezza perché sono cose molto tecniche che molti di voi potrebbero non interessare o magari potrebbero non capire. Io stesso non è che ne capisco ho capito bene tutti quanti i vari passaggi. Comunque è spiegato per quelli più smanitoni di voi per quelli più attenti a queste cose è spiegato tutto nel post dell'Aquanauticus Security Search Team ma non potevano fare una cosa più corta. Vabbè, comunque è un problema serio che va affrontato perché questo può coinvolgere sia Ubuntu ma anche altre distribuzioni Linux che fanno l'utilizzo del formato Snap e anche Windows con il Windows Subsystem for Linux. Ci sono poi una serie di consigli che hanno anche dato gli sviluppatori di questo team di sicurezza raccomandazioni che sappiamo tutti quanti cioè quelle di verificare sempre un pacchetto prima dell'installazione quindi per noi utenti state sempre vi con l'occhio a guardare. Ovviamente ci si fida ciecamente dei pacchetti presenti nei repository della distribuzione in questo caso non è che tutta questa fiducia non è non è stata ben ricompensata diciamo così. Vabbè, ma sono cose che capitano in tutti i software ci sono dei bug è buon per Canonica che questi ricercatori di sicurezza sono riusciti a scoprire questo problema e che adesso potranno gli sviluppatori di Canonical metterci una pezza. C'è comunque da ricordare sempre che Snap ha problemi di sicurezza qualche mese fa vi avevo parlato di un articolo ve l'ho linkato anche poi sul sul in calcio nei commenti di questo ultimo articolo perché lo Snap Store ha ospitato anche Apple Maleboli problemi che a parte su Snap Store e quant'altro ecco mi aspettavo da Canonical una maggiore attenzione al riguardo visto che loro ci tendono a spingere gli Snap quindi mi aspettavo maggiore attenzione sotto il profilo della sicurezza però evidentemente è molto complicato diciamo così ma vabbè cambiamo cambiamo quasi registro e adesso passiamo a parlare di Cosmic Day ve ne avevo parlato all'inizio di questa puntata del podcast System76 nel suo consulto recap mensile sullo sviluppo di Cosmic Day ha finalmente annunciato che la versione Alpha di Cosmic Day per Popo S e per tutte le distribuzioni che vorranno sperimentare è ormai vicina quindi fra non molto potremo mettere le mani finalmente su Cosmic Day potremo installarlo anche se in versione Alpha e potremo sperimentarlo e sempre System76 sempre nel suo post mensile ci ha anche ricordato ci ha anche detto che Cosmic Day debutterà ufficialmente in versione stabile su Popo S 24.04 GTS cioè la prossima versione di Popo S che sarà basata su Ubuntu 24.0 GTS quindi se non è aprile che è la fine di aprile magari verso maggio dovremo avere Cosmic Day in versione stabile se tutto va bene io non vedo c'era di mettere mani su Cosmic Day perché mi piace molto il modo in cui stanno approntando questo desktop e sono anche molto curioso di vedere anche in termini di prestazioni come sarà questo desktop environment e sempre nel post mensile di System76 dove è stato fatto l'annuncio dell'imminente arrivo della versione alfa sono state postate alcune schermate di esempio dei tool che sono finalmente conclusi quindi abbiamo lo strumento screenshot che è stato implementato la funzionalità finestre flottanti che si possono impilare è stata implementata anche finalmente è una cosa base però è una cosa che mi piace come è stata implementata la funzionalità del non-screen display poi che più hanno implementato hanno implementato i display settings la gestione dei wallpaper hanno posto molta attenzione da quel che ne parlano spesso di questa cosa sulla massimizzare le prestazioni sui sistemi che utilizzano più GPU quindi con le GPU discrete più scheda grafica dedicata quindi quelle con i laptop con grafica ibrida ci sono anche alcune cose che stanno ancora diciamo così un po' in alto mare una delle cose che mi ha meravigliato che non hanno ancora che non hanno ancora terminato riguarda il file manager perché a quando parli il file manager è ancora in lavorazione hanno detto che il design del file manager verrà condiviso in seguito una volta pronto però se dicono che l'offer ormai è in imminente arrivo io mi sarei aspettato di vedere qualche screenshot del file manager per vedere come hanno implementato il file manager perché il file manager diciamo c'è una delle parti importanti del desktop del desktop environment così come è una parte importante quella della funzionalità del tiling delle finestre è una funzionalità molto importante soprattutto per come la gestisce può essere in generale e un'altra cosa importante che ancora non hanno che non hanno ancora diciamo così terminato riguarda gli spazi di lavoro che sono ancora in fase di realizzazione quindi anche la gestione di spazi di lavoro è in fase di realizzazione speriamo che magari ci tengono a farci la sorpresa finale fra qualche settimana magari vi abbiamo tenuto nascosto questa cosa perché vogliamo farvi vedere queste cose fantastiche che abbiamo approntato speriamo che non arrivi qualcosa di raffazzonato nella prima versione di Cosmic Day comunque non ci resta che aspettare il rilascio della versione alfa di Cosmic Day per poterla provare sul blog trovate poi la serie di screenshot che vi mostrano le parti che sono ormai concursi nello sviluppo di Cosmic Day e restando in tema desktop environment è stata pubblicata è stata aggiornata la roadmap ufficiale di Wayland su XFCE e quando vedremo Wayland su XFCE lo vedremo su XFCE 4.20 il piano è quello di aggiungere il supporto preliminare Wayland per XFCE 4.20 per tutti quanti i componenti principali senza però tralasciare il supporto a X11 quindi non abbandoneranno X11 ma porteranno parallelamente le due cose sull'articolo che ho postato su Marcosbox trovate anche lo stato attuale del porting a Wayland quindi trovate tutte e quante le vari grafici sapete quali parco i componenti sono stati aggiornati quali app sono stati aggiornati e quant'altro e un'altra notizia che ho postato in questa settimana una notizia molto interessante riguarda un tool riguarda un'applicazione che sto utilizzando che vedete che utilizzerò sempre più spesso che si chiama SpeechNote ci ho fatto un video ci ho fatto una video recensione è un'applicazione che serve a tradurre e trascrivere trascrivere anzi trascrivere e tradurre offline i nostri appunti vocali grazie al Machine Learning è un'applicazione davvero molto interessante consente di fare tutta quanta la parte di trascrizione del nostro vocale in maniera offline quindi rispettosa della privacy quindi tutto si svolge sul nostro computer il rovercio della medaglia di questo sistema che impiega tante risorse sul nostro computer che poi dipendono anche poi dal modello utilizzato per effettuare questa conversione vocale io nel video vi faccio vedere il modello che sto utilizzando per convertire in testo le puntate del podcast di Marcosbox perché grazie a questo finalmente mi sono rimesso in pari e ho approntato un tempo praticamente minimo perché comunque anche sul mio computer se ne vanno quella ventina di minuti per la trascrizione della puntata quindi non è immediato dicevo grazie a questo software sono riuscito ad approntare le trascrizioni delle puntate del podcast quelle video ed è uno strumento davvero molto interessante io lo cercavo da tempo uno strumento di questo tipo proprio per aiutarmi nel lavoro di trascrizione delle puntate del podcast e speriamo che migliori sempre più sul blog trovate l'articolo dedicato e trovate anche il video sul canale youtube che poi lo trovate anche linkato nell'articolo nel quale vi faccio vedere come funziona questo software vi faccio vedere quali sono le sue caratteristiche vi do alcuni consigli e vabbè fatemi sapere se vi piace se lo proverete se lo utilizzerete per sbabbinare ne so appunti dell'università della scuola o che ne so magari se vi divertite a trascrivere che ne so se volete scrivere ne so trascrivere un racconto vi inventate un racconto e volete uno strumento che vi trascrive quel che dite questo può essere uno strumento utile passiamo adesso cambiamo diciamo decisamente argomento e passiamo a parlare di due notizie che riguardano Mozilla che una notizia è una notizia tranquilla che non ha apparentemente non lasciava nemmeno o meglio non lasciava nemmeno presagire chissà cosa perché allora che cosa vi spiego subito che cosa è successo Michael Bacher ha deciso di abbandonare la sua carica di corporation executive di Mozilla cioè il CEO per passare a quella di execution chair io odio il sto sistema di carica aziendale io non l'ho mai capito soprattutto quando lo vedo nelle aziende italiane ma nonna mia perché perché si è italiano perché chiami italiano perché dobbiamo parlare sempre in inglese anche se non siamo realtà internazionale vabbè comunque dicevo Michael Bacher ha deciso di abdicare e la sua carica è passata all'interim a Laura Chambers Laura Chambers era un membro del consiglio di amministrazione di Mozilla che adesso assume il ruolo di CEO e lo assumerà per tutto quanto il resto del 2024 è una persona di grande esperienza perché è stata per tre anni membro del consiglio di amministrazione di Mozilla ha un background come leader in diverse organizzazioni di prodotti presso che ne sono Airbnb ha lavorato per Paypal ha lavorato per Ebay e quindi più recentemente è stato anche CEO di Wego Innovation quindi è una persona capace nella gestione di questo tipo di società la sua attenzione sarà rivolta alla realizzazione di prodotti di successo che portano avanti la mission di Mozilla e anche alla costruzione di nuove piattaforme che ne accederano lo sgancio però 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 c'è stata subito una brutta sterzana brutta notizia subito dopo l'annuncio del suo della sua carica di CEO che ha annunciato subito un licenziamento molto importante all'interno del team di sviluppo di Mozilla in generale perché hanno licenziato 60 sviluppatori che corrispondono al circa il 5% della forza di lavoro totale ora che non sia tutta farina del suo sacco questi licenziamenti mi pare anche giusto perché non penso che subito abbia deciso di depennare interi settori di Mozilla magari queste sono decisioni che erano state prese precedentemente adesso lei ci metterà la faccia perché è appena arrivata la faccia del cambiamento e che si becca anche poi le critiche da parte delle persone coinvolte di quelli che sono state licenziate anche le critiche da parte della community sono state licenziate 60 sviluppatori che corrispondono al 5% della forza di lavoro totale di Mozilla e i licenziamenti riguardano alcuni dei progetti portati avanti a Mozilla nel corso degli ultimi anni progetti che sono stati giudicati a quanto pare secondari e infruttuosi e quali sono i progetti che sono stati convolti da questi licenziamenti beh l'istanza su su massodon quella di Mozilla mozilla.social qui ci sarà una riduzione del team di Zilup tutta quella parte di diciamo così prodotti per la sicurezza quindi verranno ridotti gli investimenti nei prodotti di consumo relativi al settore privacy e sicurezza quindi significa che verranno ridotti gli investimenti in Mozilla VPN Firefox Reggae e online footprint scrubber infine viene chiuso completamente Mozilla Hubs una piattaforma social VR open source pensata per educatori team e organizzazioni no profit quindi verrà chiusa speriamo che questi tagli contribuiscano diciamo così a razionalizzare le risorse anche se non penso che costino poi così tanto visto che sono prodotti alcuni avevano anche un ritorno economico tipo la VPN di Mozilla che era un servizio a pagamento comunque adesso si concentreranno stando a queste dichiarazioni che sono state fatte subito dopo si concentreranno sullo sviluppo di Firefox finalmente che ci mancherebbe visto che è il core principale di core business principale di Mozilla e si concentreranno anche sul trend del momento che è quello dell'intelligenza artificiale con che prodotti non lo sappiamo non lo so vedo anche questo trend del momento dell'intelligenza artificiale secondo me è una cosa un po' diciamo così un treno che stanno prendendo in corsa che non penso che gli darà tanti risultati anche perché per fare investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale ci vuole tanti soldi oltre che idee innovative vabbè speriamo che non ci siano tante ripercussioni nel futuro per Mozilla per Firefox non mi piace questo andazzo di licenziare esegruppatori magari avrebbero potuto anche non dico magari spostare queste risorse direttamente risorse uomo dico proprio programmatori spostarle direttamente sul progetto principale su Firefox garantendo occupazione e a tempo stesso aumentando possibilità di implementare nuove funzionalità all'interno del browser vabbè hanno deciso così oramai e questo nuovo CEO ci ha messo la faccia e vabbè infine concludiamo questa puntata con un articolo fresco fresco di pubblicazione di Luca che ha pubblicato una sua guida su QuickEmo che è un sistema per creare delle macchine virtuali in maniera molto veloce molto semplice sfruttando QEMU e una serie di configurazioni automatiche ne stanno parlando tutti in questo periodo ne ha parlato Linux ne ha parlato il canale mi sembra anche The Linux Experiment mi sembra che ne ha parlato recentemente e Luca ha voluto provare ha voluto scrivere le sue impressioni a caldo su QuickEmo nell'articolo vi spiega come installarlo ha fatto in specie installarlo su Ubuntu con i repository aggiungendo i repository vi spiega tutto il funzionamento vi spiega anche com'è facile proprio con un semplice comando installare che ne so Windows 10 quindi è tutto automatizzato tutto quanto semplice fatemi sapere voi che cosa ne pensate io vorrei provare mi stuzzica molto l'emulazione di un Mac lui nel suo articolo Luca dice è approvata attualmente l'emulazione di un Mac perché le istruzioni erano un po' più macchinose rispetto alle altre installazioni di Windows 10 e quant'altro però sembra basta letteralmente tre comandi per fare qualsiasi cosa è un progetto interessante andategli a dare una occhiata bene ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 169esima puntata del podcast di Marcosbox edizione video vi ricordo come sempre che potete seguirmi sulle principali piattaforme social quindi facebook x youtube podcast su tutti quanti i piattaformi podcasting adesso sono anche su castopod mi trovate su linkedin con il profilo personale mi trovate su massono con il mio profilo personale mi trovate soprattutto su telegrama dove c'è il canale telegrama di Marcosbox dove posto le notizie altre cosine che ogni tanto mi passano per la mente trovate poi la community telegrama di voi lettori di Marcosbox dove potete parlare di tutto non soltanto di linux anzi dovete parlare di tutto non soltanto di linux e trovate poi anche un canale telegrama delle offerte amazon che potete utilizzare per supportare i blog sono link referrere ad amazon quindi sapete come funziona per voi non cambia niente per me cambia perché amazon mi riconosce una piccola percentuale e che posso utilizzare per potete utilizzare per supportare il blog vi ricordo che potete anche utilizzare il mio codice referrere ad marcosbox webcast-21 che trovate pubblicizzato sul blog trovate anche il tux che cliccate da sopra e vi rimanda direttamente alla come si chiama alla 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 pagina di amazon che vi completa con il con il con il referrere e infine vi ricordo che se avete bisogno di una vpn potete abbonarvi a nordvpn e utilizzare il mio link referral attualmente c'è una promozione che vi consente di avere il 67% di sconto su nordvpn più tre mesi gratis per un amico è una promozione a tempo è una promozione questa qua dedicata al compleanno di nordvpn quindi vi fate un regalo a voi se utilizzate questa promozione perché vi avrete uno sconto voi avrete tre mesi da regalare a un amico quindi potete fare anche un regalo a a chi vi sta più a cuore diciamo così e non fatele vada a scappare se avete bisogno di una vpn sapete bene che nordvpn è praticamente la migliore vpn attualmente sul mercato sia in termini di prestazioni che in termini di funzionalità e di sicurezza beh allora ci ragioniamo la prossima settimana lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo con la prossima puntata del podcast e ci leggiamo ci possiamo seguitemi sul blog ciao ciao